A guardarlo in questa foto scattata dalla polizia scientifica nell'immediatezza dei fatti, sembra un cane mansueto. In realtà questo pitbull pochi minuti prima dello scatto ha azzannato una bambina di tre anni, nipote del proprietario del cane. La bimba si trovava in compagnia della nonna materna in questa abitazione di via San Nicola, la periferia nord di Lecce. La bambina era seduta sul divano dalla parte dove solitamente si accomoda il cane. Quindi il cane nel momento in cui ha scavalcato la finestra, nel momento in cui la nonna ha aperto la finestra, probabilmente ha visto la bambina lì, l'ha ritenuta penso come un'invasione del suo territorio. Immediata la corsa in ospedale dove la piccola è stata condotta da alcuni vicini di casa senza aspettare l'arrivo dell'ambulanza, le sue condizioni sono apparse subito gravi. La bambina adesso è in sala di rianimazione, sembra che ieri sera abbiano fatto un intervento d'urgenza abbastanza delicato, sembra che per adesso almeno il rischio di amputazione della gamba sia scongiurato. Su disposizione del magistrato di turno il pitbull è stato sequestrato e condotto nel canile sanitario, distante poche centinaia di metri dal luogo dell'aggressione, mentre il proprietario è stato denunciato. Grazie a tutti.